Cono o coppetta poco cambia e l'attenzione agli ingredienti, alle esigenze del cliente, il gusto, in termini generici, la qualità che fa la differenza. E tutto questo deve essere salvaguardato. Ecco perché dal 5 luglio 2012 il Parlamento Europeo ha istituito la giornata europea del gelato artigianale, scegliendo come giorno il 24 marzo, sottolineando tra le motivazioni che tra i prodotti lattiero caseari freschi, il gelato artigianale rappresenta l'eccellenza in termini di qualità e sicurezza alimentare, che valorizza i prodotti agroalimentari di ogni singolo Stato membro. Si tratta inoltre dell'unica giornata che lo stesso Parlamento Europeo ha finora dedicato a un alimento. E Trieste lo sa bene quanto è importante il gelato, soprattutto in giornate come quella di oggi. Come merenda, come pausa, come garanzia di mangiare qualcosa di buono e sano, senza abbondare troppo con nutella o granelle si intende. Un giorno magari simbolico, ma che serve per tutelare la categoria. È una bellissima giornata domani, vuol dire molto per noi, perché ci dà la possibilità di metterci in luce, ma soprattutto di valorizzare il nostro lavoro artigianale. Perché ricordiamoci che noi siamo artigiani e questo rimarremo, nel senso siamo molto vicini alle esigenze dei nostri clienti, quindi intolleranze alimentari, celiachia soprattutto, gelati sempre più leggeri e digeribili, li può fare solo un artigiano. Dal centro alle periferie, da Udevalla ad Arnoldo di Viale Miramare fino a Opicina, in ogni angolo della città si può gustare un buon gelato e i commercianti locali ci mettono sempre tanta passione. Per chiudere, una menzione d'onore al gusto dell'anno. Quest'anno è stato scelto il gelato al tiramisù.